E in questo caso, questa sera, desidero regalare a Cristina la libertà di amare. E in questo caso, questa sera, desidero regalare a Cristina la libertà di amare. Amare una persona, un noto avvocato, cui chiaramente tiene più che a me. Cara Cristina, so di quanto tu ne sia innamorata, sia dal punto di vista mentale che sessuale, come hai avuto modo di confidarti. E so anche che prima di lui hai avuto una relazione con un noto industriale. Cari amici, non crediate che mi faccia piacere fare la figura del condotto davanti a tutti voi, ma Cristina è talmente in gamba nel raccontare le sue verità che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui io stasera termino la mia convivenza con lei e che è una banale storia di infedeltà, addirittura pre-coniugale. Sono tanto deluso, muore a pezzi. Mi faccio la colpa di non aver capito come una donna non possa davvero amarti se un matrimonio ti mette contro i figli con i quali dovrò faticosamente cercare di recuperare un rapporto deteriorato in questi tre anni. Cara Cristina Mikonos, vai col tuo avvocato, sii felice con lui. Come sai, è tutto pagato, così come è pagato il viaggio in Vietnam, anche con tua figlia. Una splendida e seria ragazza che davvero, mi dispiace, debba essere toccata da questa situazione. Ti confermo la mia stima lavorativa. Se vorrai al tuo ritorno, potremmo valutare come proseguire una collaborazione professionale. Invece la nostra storia insieme finisce stasera. Ti auguro di essere felice col tuo nuovo compagno e di continuare a brillare nella vita come hai fatto in questi anni. Scusate e buonanotte. Scusate e buonanotte.